Non correte sul nostro sangue, è uno degli slogan apparsi sui cartelli nella manifestazione che ieri in Bahrain ha visto oltre 10.000 persone protestare contro il Gran Premio di Formula 1. L'opposizione sciita accusa il regime sannita di sfruttare l'evento sportivo per dimostrare che la situazione nell'Emirato è tornata alla normalità dopo la ribellione di due anni fa. Il corteo, per lo più pacifico e con la partecipazione anche di numerose donne e bambini, è sfilato lungo l'autostrada Budaiva, che corre 4 km ad ovest della capitale Manama, collegando diversi villaggi sciiti. Soltanto nel soborgo di Duraz alcuni giovani hanno interrotto momentaneamente la circolazione incendiale o degli pneumatici. La polizia è intervenuta per rimuoverli sparando candelotti lacrimogeni. Scontri con le forze di sicurezza erano invece scoppiati la notte precedente in diversi villaggi intorno alla capitale nei giorni scorsi. Al momento il bilancio è di un morto e diversi feriti che non hanno impedito il regolare svolgimento della due giorni di prove. In pole position, per la cronaca, si è piazzato il tedesco Nico Rosberg su Mercedes.